Presidente Enrico Di Giuseppe Antonio, siamo qui in provincia per la presentazione di una rassegna importante, la rassegna dei cuochi di Villa Santa Maria. La provincia sponsorizza e sostiene questo evento che è un fiore all'occhiello della gastronomia abruzzese. 35 anni, un successo incredibile, resiste a tutte le intemperie della crisi, delle difficoltà organizzative che in qualche modo purtroppo hanno un po' ridotto le attività legate al turismo ma soprattutto legate alla gastronomia. È il viaggio del gusto che a mio giudizio deve essere considerato da chi in questi tre giorni vuole venire in Abruzzo, in provincia di Chieti, in questo bellissimo borgo che è Villa Santa Maria, che è la patria dei cuochi, che ha dato i Natali a tanti chef sparsi nel mondo che hanno fatto grande la cucina italiana e poi c'è da dire che lì c'è un istituto alberghiero di pregio, di valore, l'eccellenza della nostra formazione scolastica italiana si trova appunto qui a Villa Santa Maria. Poi c'è da dire che l'enogastronomia, insomma questo percorso di eccellenza può portare a fare la differenza per dare al turismo nuova linfa ma soprattutto un contributo per il suo sviluppo e il turismo a breve scadenza darà dei grandi risultati e delle grandi soddisfazioni soprattutto ai giovani, ai giovani che sono in cerca di lavoro, in cerca di occupazione e credo che noi dovremmo sostenere questa seconda gamba dell'economia abruzzese e della nostra provincia in particolare. Quindi non solo la degustazione, quindi l'enogastronomia ma anche la rivisitazione del territorio? La rivisitazione del territorio perché noi abbiamo dei siti bellissimi, straordinari, inesplorati, c'è stata quella visibilità che meritavano tante eccellenze nell'ambito del territorio provinciale. Ecco stiamo facendo passo dopo passo un percorso che ci porti veramente a valorizzare tutti e 104 i comuni. La specificità della provincia di Chiedi è che abbiamo 104 tesori, 104 siti vocati a dare al turismo un aiuto e un contributo importante grazie anche al paesaggio, alla cordialità proverbiale della nostra gente, ai nostri piatti che fanno la differenza. Domenico Dinucci, presidente dell'Associazione dei Cuochi di Villa Santa Maria, un'associazione che si occupa dell'organizzazione di questo evento. Qual è il programma di quest'anno? Il programma di quest'anno si inizia dal venerdì, che è una serata dedicata a San Mesco Caracciolo, una serata religiosa, dove noi arrivano altre regioni d'Italia che vengono a offrire l'olio votivo a San Mesco Caracciolo. È un cero che arde per un anno intero nella chiesa di San Mesco Caracciolo. Dopodiché, dopo il venerdì, abbiamo il sabato, dove il sabato si incomincia con la parte gastronomica, dove noi dedichiamo la giornata, la serata più che altro, al re della pasta, che sarebbe di Cecco, che ormai sono 35 anni che noi facciamo ricette, ogni anno si fa una ricetta nuova con questa pasta che è eccezionale. Quindi il sabato si è dedicato solo al pasta party. La domenica invece è la giornata clou di questa manifestazione, dove abbiamo 200-250 metri di buffet, dove là si vede delle belle, dalle montature fatte in margarina, dalla frutta intagliata. Ci sono dei scultori che, chi partecipa, rimangono incantati per la bellezza e per la maestria di queste persone, che riescono a fare delle strutture, sono degli scultori, perché dei cuochi. Quindi bisogna vederli per poterli apprezzare. Poi, dopo di questo, sono i cuochi, diciamo così, i cuochi che elaborano piatti, gli odori, è solo facendo la passerella del buffet con gli odori che uno deve per forza mangiare, altrimenti non riesce. Quindi facciamo dal pesce alla carne, alla roba vegetale, di tutto. Quest'anno abbiamo diversi ristoranti che vengono a esporre i loro piatti, che loro fanno i loro locali. Abbiamo un'area ristorante dove noi riusciamo a dare da mangiare dalla mattina alla sera a tutti gli ospiti che vengono a Villa Santa Maria, con un prezzo molto basso, perché noi facciamo questo per dimostrare la capacità, l'abbondà dei piatti che si fa a Villa Santa Maria. Quindi cerchiamo di fare anche un prezzo basso per dare in modo che tutti possano assaggiare ciò che fanno i cuochi di Villa Santa Maria. Prezzo basso per un menù? Allora, un menù, diciamo che un primo di pesce, un secondo di pesce, con frutta, vino, cioè con tolge, vino, è 12 euro. Quindi tutti possono assaporare ciò che è il gusto e la friabilità dei piatti, la presentazione dei piatti con un prezzo che solo a Villa Santa Maria si può fare. Un invito ai telespettatori? Beh, io invito un po' tutti a partecipare a questa rassegna, di venire a Villa Santa Maria. Un porco di 1500 anime, un paesino bellissimo, non solo i cuochi riescono a prendere la gente per la gola e per i gusti dei piatti, ma poi abbiamo San Mescoraccio, dove visitare il museo che si fa le inaugurazioni il sabato, il museo di San Mescoraccio, il museo dei cuochi è l'unico in Italia, che è a Villa Santa Maria, è un porco bellissimo, c'è San Mescoraccio, cerchiamo di far star bene la gente, non solo con il mangiare, ma anche per visitare Villa Santa Maria. Pino Finamore, sindaco della Patria dei Cuochi, una responsabilità grande per il suo mandato, per una manifestazione che rappresenta l'Abruzzo in tutto il mondo. Allora, la responsabilità è doppia, nel senso che Pino Finamore, oltre ad essere il sindaco, è anche un cuoco, e quindi di conseguenza, essendo il primo cuoco sindaco del paese, ha una responsabilità ampia per questa manifestazione. Noi puntiamo su queste tre giorni per far ripartire un percorso turistico religioso, per cercare di unire sacro e profano, ma comunque per far conoscere la figura di San Francesco Caracciolo in tutta Italia. Quindi invitiamo tutti, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, alla nostra manifestazione per degustare i nostri piatti, i piatti di questi chef stellati che ci onorano della loro presenza. Quindi diciamo che, oltre alla giornata del venerdì, che è tutta religiosa, alla presenza anche di un cardinale quest'anno, perché ricadono i 450 anni della nascita di San Francesco Caracciolo, vi è poi la giornata di sabato con un concorso barman dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero, e la sera del sabato un pasta party, dove la De Cecco, che è sponsor storico praticamente, fa elaborare ai nostri chef. Nella giornata di domenica invece la mattina abbiamo un concorso culinario, che è il Cuocodoc, con quattro chef che rappresentano le quattro province della regione Abruzzo, e poi nel pomeriggio vi è chiaramente il momento clou e il buffet viene esposto in tutto il centro storico per le vie del paese e si possono degustare i nostri piatti. Va ricordato anche che l'Istituto Alberghiero realizza una giornata di porte aperte, quindi tutti possono far visita e anche degustare i piatti che i ragazzi preparano. Un tocco di maggiore prestigio nella manifestazione di quest'anno, sia sotto l'aspetto enogastronomico che dell'intrattenimento? Allora, quest'anno abbiamo invitato, cosa che non abbiamo fatto negli altri anni, alcuni chef che vengono dal Sudafrica, quindi gli chef di colore, cui praticamente insieme a loro avremo anche la presenza dell'ambasciatore del Sudafrica a Roma, che ci farà visita, quindi avremo, spero, anche la possibilità di far degustare le loro pietanze in questa occasione. Quindi un paese che vive con e per i cuochi. Assolutamente sì, la nostra storia ci insegna che tutto quello che gravita intorno a Villa Santa Maria sa di cibo, sa di storia che riguarda l'arte culinaria. I nostri chef, come dire, hanno reso famoso il mondo, noi siamo solo quelli che cercano di raccogliere e far conoscere la storia, ma la storia è stata fatta dai nostri antenati, cuochi di grande valore. Grazie. Grazie. Grazie.